che di un bel allora ecco a voi il Mirko Webcomics ragazzi eccolo qui Mirko Webcomics che racconti? e che racconto? che ne so che ti va di raccontare ai tuoi fan? ciao ragazzi e ragazze chi c'è qua dietro insieme a te? c'è questa scema di grazie oh dove siete stati? informatica che hai imparato a informatica di nuovo? niente che hai fatto oggi che bello? che hai fatto? che ho fatto un ripasso generale di che cosa? dei e come se cancella di come se dei tasti allora adesso facciamo una piccola bella breve canzoncina sei pronto? devi ripetere quello che dico io oh eh devi ripetere quello che dico io sì è pronto per i tuoi fanno chi è? e allora one two three go libera libera in un 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ma no no Allora la vostra musica del DJ Mirko Web comix era paraparaparapiripiripiri paraparaparapiripiriparapaparapaparapaparapaparapaparapapaparapaparapapaparapaparapapaparapapaparapapaparapapapaparapapapaparapapapapapapap. Va bene saluta tutti quanti. Ciao! Mirko, azionami. Saluta. Ciao! Ciao ragazzi e mi raccomando così e io sto per farlo. Grazie a tutti. Ciao e buona cena.